Ormai ad ogni episodio sono un po' meno presentabile del precedente. Bentornati ad un nuovo episodio di Road to Division 1 su FIFA. Allora, eravamo rimasti che ho fatto un'eroica impresa per arrivare in terza divisione e ho vinto il titolo della quarta fuori onda perché era solo una partita ed era irrilevante da vedere. Quindi, ora che siamo pronti, direi che possiamo andare tranquillamente. Let's go! Dai, un bel crostino. Dai, Carlitos! Porca puttana! Ma quanto sei stronzo! Ma non puoi vedere una traversa da lì? Cioè, a quanto pare puoi, ma non devi. Dai, bellissimo pallone per te, Vez! Ti prego! Carlitos! Te beee! Pallonettino e tanti saluti! Mamma mia, che giocatore! Oh mio Dio, cosa gli è successo al petto? Oh mio Dio! Vabbè. 1-0. Minchia! Non ho capito niente. L'ha salvata Radu, mi sa. Bello, il pallone per Tevez. Che si infila! Tira! No! Attenzione, il pallone è indietro per Tevez che prova a bruciare il difensore. Lo brucia! E guadagna un rigore! Guadagna un rigore al novantesimo. Discutibile. Minchia, che botta che ha preso, però. Un rigore discutibile, però. Ma porca puttana! Ma non riesco a buttarne dentro uno, eh! Lunga la palla e finisce la partita. 1-0. Che sudata! Seconda partita. Bello, il pallone per Tevez. No! Vaffanculo! Che pallone è? Come fa ad arrivarci uno? Attenzione, che cagata difensiva incredibile! No, e poi che stronzata offensiva mia, però. Caserias deve tenere botta. E ce la fa. E poi si accoppiano, beatatamente. Non si alzano più. Vabbè. Porca puttana Andanovic, meno male. Madonna, madonna. Fallo! Ottima punizione questa. Per Pjanic proprio, tra l'altro. Dai, questa è gol. No! Bastardo, se l'hai messo bene subito. La palla è ancora lì. Pogba? Madonna, Paul! Pogba risolve la partita. Per ora. 1-0. Dai, cazzo. Mamma mia, rivediamolo. Che mina, mamma mia. Imprendibile. Finalmente, Pogba fa vedere le cose di cui è capace. Sì, ciao, bello. Motorini incredibili. Che bella la primavera. Sombrero! E poi lancio dei rossi, che non si sa perché è qua. Ma che cazzo fai? Ho fatto una cagata incredibile. Ti prego. Oh mio Dio, grazie mille. Meno male che ho cambiato l'andano. Vi ci ho preso con l'84. Perché con l'83... Oh mio Dio! Che cazzo ha salvato? Non so chi fosse, ma mio Dio, grazie. Dai, dai, Gervinio. Questo è un bel contropiede. Opla! Gervinio, 2-0. E' la dura legge del gol. E' la dura legge del gol, ragazzi. Che soddisfazione. Opla! No, oh mio Dio, ho fatto due cappellate incredibili, contemporaneamente. E questa l'ho pagata, cazzo. Questa l'ho pagata. Ma che è? Ma che è sta roba? Ma ragazzi, manca... No! No, 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 no! Oh mio Dio, via la palla! Ma spazziamo là. Vattela a prendere. No, lei, ma perché non fischia sta merda umana? Oh, grazie a Dio! Grazie a Dio! 2-1. Piove. Perché deve piovere per forza? Attenzione, Tevez! Se ne va benissimo! Tevez! Carlitos! Tevez! 1-0! 1-0! Purgo tutti! Oggi purgo tutti! Mamma mia, sei brutto! Mamma mia, ma come se n'è andato qua? Mamma mia! No, no, no! Oh, cosa ho salvato, madonna! Grazie, Chiello! Oh, madonna, santissima! Oh, mio Dio, l'ho vista dentro! No, mi sono ingarbugliato! Eh, l'ho pagata, questa! Porca troia! Che stronzo! Ma ho fatto il gol della merda! Fa tanto lo splendido e poi mi fa il gol della merda! Cross per Tevez che non ci arriva! Dai! Oh, madonna! Madonna, Paul, perché non l'hai messa? Però... Che lini che va a insultare dei rossi dopo il giallo! Bellissimo! Dai, il pallone per Gervinio! 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 2 a 1! E si ammazza! E andiamo così! E andiamo! 2 a 1! Forza! Qual è il bruttissimo, tra l'altro! Ma neanche troppo, dai! Tevez! Ma cos'è sta schifezza? Ma dai! Ma dai! Ma spazza bene, cazzo! Ma cos'è sta roba? Oh, mio Dio! Ok, ha fatto lo stronzata, grazie a Dio! 2 a 1! Abbiamo vinto anche questa! 3 vittorie, ottimo! Uff! Portiamo a casa la terza vittoria di fila in divisione 3! Tutte partite tese! Ma belle da giocare, sono contento! Sono contento, andiamo a 9 punti! Se anche nel prossimo episodio facciamo 3 vittorie di fila, ce ne andiamo diretti in divisione 2! E su queste 3 belle vittorie, io vi saluto! Ci vediamo al prossimo episodio! Ciao belli! Ciao belli! Grazie a tutti.